Il giorno dopo la denuncia ai carabinieri da parte dei genitori la replica della ASL interpellata sul caso Gabriel, l'azienda sanitaria rassicura al momento non esiste alcuna ipotesi di trasferimento a Sant'Angelo dei Lombardi, fanno sapere da Via degli Mbimbo a giugno. Infatti è stato concesso un piano di trattamento della durata di 180 giorni sulla scorta di quell'atto. Il 18enne affetto da una forma grave di autismo potrà continuare ad essere assistito presso il centro di Valleluogo ad Ariano Irpino fino a dicembre. Probabilmente ad ingenerare timori nei familiari è stato il passaggio di competenze con il raggiungimento dell'età adulta tra neuropsichiatria infantile e di igiene mentale e la convinzione errata della scadenza del piano terapeutico a settembre anziché a dicembre. Per l'ASL dunque nessuna necessità di dover dare nuovi via libera. Gabriel potrà continuare nel percorso di cure avviato da tempo senza alcun rischio di regredire. Il tema dell'assistenza e dei servizi si riproporrà a settembre per l'inizio dell'anno scolastico quando il ragazzo frequenterà il quinto anno. Mentre per il servizio di semi convitto la possibilità di raggiungere per cinque giorni a settimana il centro dove svolge logopedia e musicoterapia nessuna difficoltà ribadiscono dalla ASL. Entro dicembre dovrebbe entrare in vigore anche la nuova legge che ha riformato il sistema dell'assistenza e che definisce il perimetro delle ore e delle competenze. La volontà comune delle istituzioni per quella data è aver definito chiare le competenze dando priorità alle esigenze concrete degli assistiti in campagna non solo di Gabriel.